Ora come ogni martedì andiamo a vedere la situazione della criminalità nella nostra città grazie alla collaborazione con Mindcrime. Le immagini che andremo a vedere riassumono l'andamento dei reati nel corso dell'ultima settimana. Il primo grafico descrive l'andamento dei crimini nel corso appunto della settimana, suddivisi per categorie di reato. Si evince una netta prevalenza di crimini violenti. Le altre fattispecie di reato sono distanziate invece in maniera significativa. Il secondo grafico descrive complessivamente i giorni più colpiti dai diversi reati. Si vede che il picco di criminalità si è avuto giovedì 14 aprile seguito da venerdì 15 aprile. In relazione alle zone in cui si è concentrata la maggior parte dei reati si segnalano zona Porta Venezia Porta Nuova, zona Rogoredo e zona Corsolodi Corvetto.